Buongiorno a tutti buon lunedì 11 marzo allora questo è un altro video vuota la spesa mi dite ma sto facendo tanti video vuota la spesa perché di solito vado anche a prendere qualche cosina da euro spin e ora ci sono offerte, c'è il volantino e c'era una cosa che mi interessava prendere perché il secchio che ho dell'automop non funziona più il pedale è molto duro, è difficile da far funzionare, da scendere con il piede e così non si strizza bene il mocio perciò ho visto che c'era l'offerta del diuppo, del rotomopo con il secchio e anche il manico con il mocio con le frange e costava 15 euro ora ve lo mostro questo però si chiama trottomopo è questo questo di qua credo, c'è la centrifuga ma credo che abbia, che non abbia il pedale forse è meglio allora questo qua mi è costato 15 euro scontato proseguiamo con le altre coschine che di solito prendo da euro spin allora io mi trovo benissimo con questi assorbi colori mi cattura colori per non diciamo si possono mischiare i capi colorati e con questi foglietti non ci sono incidenti di lavaggio questi qua erano in offerta mi pare 2 euro o qualcosa non lo ricordo ora non ho lo scontrino poi mi servivano i bicchieri di plastica questi troppo non ho lo scontrino poi mi mancavano i minacci che di solito li faccio a mio marito questi qua proporzionati coltivati in Italia poi mi servivano i secchetti grandi per la plastica la pattumiera e ho preso questi mancavano purtroppo quelli piccoli pazienza poi niente ho preso queste viustele che li mangio a mio marito questi qua sono mi pare con il tacchino ma col pollo questi qua poi una confezioncina di bevanda alla soia 99 centesimi questo la ricordo questo la bevo io e poi ho preso delle novità allora questa forse non so se è una novità questa qua questa pizza a pala surgelata con le patatine le viuste questa diciamo la do a mio marito le fa mangiare a lui ma che fai e poi ho preso che avevo visto in un video una ragazza che mostrava questa pizza a base integrale con pomodoro ciliegine e rucola la voglio provare ma quella proprio che mi ha stupito è stata la pizza alle verdure che ho mangiato la settimana scorsa sempre in eurofin questa qua con le verdure grillate è fenomenale è buonissima resta morbida non la dovete cuocere tanti minuti non oltre i 15 minuti e resta morbida se la fate cuocere di più diventa biscotto ma se prestate attenzione è formidabile è veramente buona e non ho neanche non mi hanno fatto male sono i peperoni ma li ho digeriti e poi ho preso il rosto di petto di pollo questo qua di eurofin è molto buono niente poi le altre cose sono cose di mio padre che ha comprato le lattine per i gatti altre cosine e questa è stata tutta la mia spesa la diciamo mini spesa non è che è una spesa grande però io ho certe cose che prendo di eurofin che mi trovo bene il video è terminato vi ricordo di seguirmi sempre su instagram io sono con il nick di tenera78 e se vi fa piacere se vi piacciono i miei video spero che vi iscriviate al mio canale grazie di aver visto questo video e ci rivediamo presto con un'altra tipologia magari vi mostro altre cose sul make up l'aggiornamento make up dei rossetti la postazione vediamo ok per adesso vi saluto e vi ringrazio ancora un abbraccio forte ciao ciao ciao